Siamo con la dottoressa Elia che rappresenta l'associazione ALDA, è un'associazione molto attiva sul piano della comunicazione tra ente e locale e istituzioni e cittadinanza. Riguardo l'iniziativa del Consiglio dei Ragazzi, cosa ne pensa di politiche come questa, di iniziative come questa, riguardo l'avvicinarsi di giovani cittadini alla politica, alla educazione civica? Sì, credo che questo esempio di Consiglio dei Ragazzi rappresenti un elemento importantissimo e un esempio eccellente di partecipazione attiva alla cittadinanza e alla vita politica del Paese. Infatti questa partecipazione permette alle persone di avvicinarsi alla vita politica e di rendersi consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri, che sono appunto elementi costitutivi dell'essere cittadino e di avvicinarsi allo spazio pubblico per riconoscersi in esso e per ampliare l'azione di governo e migliorare l'azione di governo degli enti locali, prendendo delle decisioni sulle varie tematiche insieme e attraverso una cooperazione e un confronto. Quindi è bene cominciare a fare democrazia fino all'età scolare? Esatto, è importantissimo iniziare a costruire questa personalità democratica, tra virgolette, fin dall'età scolare. E anzi, credo che sia fondamentale partire proprio da questi giovani per creare un cittadino consapevole, un cittadino che può promuovere una democrazia sostenibile. Esatto, una vera democrazia dove non solo si è rappresentati ma si è anche proprio... Esatto, la ringrazio moltissimo e le auguro buon lavoro. Grazie.